La moda attuale è veramente molto selettiva perché questo mondo è pieno di fashion, ma il fashion giusto non è sempre presente. Ecco, io scelgo naturalmente, quindi andando al Micam, per quanto riguarda la scarpa fashion certamente, di moda certamente, trend, ma deve essere anche estremamente comoda con dei pellami particolari, con anche dei brevetti particolari. È vero caro Presidente? Insomma, qui l'esperienza non manca, Stonefly è un grande leader veramente di questo settore. Assolutamente sì, come ogni anno siamo venuti anche per questa stagione in fiera a presentare le novità, che sono novità soprattutto per la donna al passo con i trend del momento e come sempre scappe belle, piacevoli, ma soprattutto comode da portare e ideali per chi deve camminare molto, vuole essere, apparire diciamo nel migliore dei modi, ma essere allo stesso tempo comoda e confortevole durante tutta la giornata. Questo modello Madame è la novità di quest'anno, un tacco dal design sicuramente accattivante che ha anche il pregio di un'ottima stabilità e poi una calzata estremamente facile nella parte anteriore con un sistema, diciamo, di piegature che consentono quindi la massima flessibilità e quindi un avanzamento e un incedere facile, sicuro e comodo. La grande novità di quest'anno che si rafforza è il nostro sistema H-Dry, un sistema brevettato sostanzialmente che garantisce una assoluta impermeabilità all'acqua della Tomaia, quindi un beneficio particolarmente sentito, assicurando allo stesso tempo una perfetta traspirazione. Una combinazione di pellami molto articolati, passiamo dalle croste, laminati, quindi il pelo, poi la pelliccia è messa sia nella parte anteriore come invece in quella nella parte posteriore, quindi una serie di combinazioni che consentono di avere con la stessa tecnologia anche diverse soluzioni estetiche particolarmente gradevoli. Presidente, io devo veramente fargli i complimenti, ho visitato anche i vostri stabilimenti, eccetera, ecco però devo dire che con i vostri marchi, insomma marchi, eccetera, siete riusciti a mixare quello che è la grande comodità, cioè il fatto di usare, non so, una sneaker leggera, fantastica, eccetera e al tempo stesso il momento fashion, cioè il punto fashion, quindi seguendo quelli che sono i trend che vanno sul dettaglio, che vanno sulle applicazioni, su tessuti in contrasto, laminato. Il piacere alle donne, quindi da questo punto di vista lo facciamo ponendo massima attenzione a quelle che sono le novità della stagione e allo stesso tempo assicurando alla nostra consumatrice la garanzia di un prodotto superlativo. La selezione dei pellami, dei materiali, dei struttopiedi, della suola è fatta con molta attenzione, con estrema passione, da persone molto competenti. La qualità del prodotto Stonefly è un elemento fondamentale che abbiamo costruito in oltre 25 anni di storia a cui teniamo moltissimo e quindi non solo bellezza, non solo tendenza, ma anche affidabilità e sicurezza. Eccolo qua, questo è un piccolo gioiello, il nostro Blue Soft Memory, questa tecnologia che consente di ammortizzare l'impatto del peso del corpo sulla parte tallonare e quindi consente diciamo un'ottima camminata, un assorbimento, quindi praticamente uno non sente nemmeno quando metti i piedi a terra. C'è questa forte tendenza delle sneaker, noi abbiamo voluto dare una nostra interpretazione con un tacco diciamo importante, assolutamente in tendenza e con una morbidezza di pellami assolutamente incredibile. Una nappa morbida, estremamente confortante e che non pesano niente. Quindi con l'Elettra abbiamo diciamo colto una nuova parte nel seguimento di mercato, ovviamente ci sono anche colori e soluzioni, molto più in tendenza e quindi una vasta gamma di soluzioni che ci porta anche qui a vedere le pellicce, a vedere diciamo i metalli inseriti, una visione più sneaker, quindi una gamma diciamo assolutamente molto articolata di soluzioni estetiche che ci fanno pensare che questo sarà uno dei prodotti di maggior successo dell'autunno e inverno 2019.